Prima vittoria del nuovo anno per l'Arezzo Calcio Femminile, che rifila tre gol alla Valdinievole. Un Laurentini, che continua a essere il talismano, porta fortuna per le ragazze Amaranto, dove hanno conquistato finora quattro vittorie e tre pareggi. Confermato il consueto modulo 3-5-2, Mr. Acquisti inserisce Mazzini al posto di Capitano Lucarini, ferma i box per un problema alla spalla, mentre la Valdinievole, allenata da Mr. Rossi, si porta inizialmente in campo con un 4-4-2. Inizia bene l'Arezzo, che domina subito il gioco, e l'assedio dell'Amaranto porta il risultato tanto atteso al minuto 22. Azione rocambolesca dentro l'area di rigore del Valdinievole. Paganini prova la conclusione a reti, ma Barzotti riesce a respingere. La palla arriva a Mazzini, che non riesce a battere la numero uno ospite. Nel proseguimento dell'azione, la sfera termina nuovamente sui piedi di Paganini, che non sbaglia. L'1-0 per l'Arezzo. Per la numero 7, Amaranto è il quarto centro stagionale. Il Valdinievole accusa il colpo e lascia sempre più spazio a un Arezzo aggressivo e caparbio. Il raddoppio non tarda arrivare. Minuto 42, corner battuto da Paganini e colpo di testa di Aterini, che trafiggia ancora una volta Barzotti. Il primo tempo si chiude con l'Arezzo padrone del campo e del gioco, lasciando alla Valdinievole qualche ripartenza ben fermata dalla retroguardia Amaranto. Nella ripresa, solito blackout iniziale dell'Arezzo con il Valdinievole, che inizia a guadagnare metri e terreno. Al ventesimo minuto della ripresa cambia nuovamente la partita. Palla di Dami per la testa di Paolino, che batte Antonelli e riporta in partita il Valdinievole. Ma al quarantatresimo del momento di maggior sofferenza, l'Arezzo chiude il match. Paganini al limite dell'area di rigore lascia partire un destro chirurgico, che finisce nell'angolino alla sinistra del portiere. 3-1, doppietta per Paganini e tre punti in cassaforte. Un risultato che chiude nel migliore dei modi il giocone d'andata, dove l'Arezzo di Paolo Acquista è riuscito a conquistare la quarta posizione nel campionato regionale di Serie C, con 27 punti a 5 lunghezze dalla capolista Lucca 2003. Quanto è importante trovare la vittoria dopo uno stop esterno arrivato scorsa domenica? Penso che per il morale sia molto importante. Ci vogliono sicuramente le vittorie, anche se io, come ribadisco sempre, noi bisogna pensare ad altre cose, perché bisogna sempre pensare al futuro e costruire qualcosa di solido. E non sono solo le vittorie che fanno questo, ma il gioco, l'atteggiamento. Diciamo che oggi posso essere contento a metà. Un Arezzo che nei primi 45 minuti ha tenuto bene il campo, poi nella ripresa è successo qualcosa che è un blackout. Io credo che più che un blackout, magari in generale, vengano a galla degli atteggiamenti della settimana. Infatti per questo non è mia abitudine, ma vorrei esaltare il lavoro di una in particolare, che è Magnani, che magari non avrà doti spiccate tecnicamente, però credo che oggi abbia dimostrato che con la grinta, con la voglia, si può raggiungere obiettivi superiori, magari anche all'attese. Siamo con Magnani, giocatrice dell'Arezzo. Cosa ha funzionato questo oggi per l'Arezzo dopo il capo della scorsa partita? Siamo entrate in campo sicuramente meglio della scorsa domenica, più convinte delle nostre qualità e soprattutto ci siamo trovate bene in campo, nei movimenti e tutto. Diciamo che siamo andate meglio nel secondo tempo, però si è anche un po' perso la testa. Poi dopo ci siamo ritrovate, si è avuto abbastanza occasioni da go, se ne è spiegate parecchio. Siamo qui con il mister Rossi, allenatore della Valdinievole. Dopo il 3-0 della scorsa giornata, quest'oggi è stata una battuta d'arresto. Cosa vuol dire questo? Cosa non ha funzionato oggi per la Valdinievole? Funzionato? Niente. Abbiamo pagato nel primo tempo l'aggressività dell'Arezzo. Un'ottima squadra, ma lo sapevo già, l'Arezzo sia a livello giovanile che a livello di prima squadra è un'ottima squadra. Ci ha condizionato le due assenze importantissime per noi di Meucci e Camardo, ma non che le altre ragazze si siano comportate male. Il problema è che abbiamo pagato un gran primo tempo dell'Arezzo. Nel secondo tempo, devo dire la verità, alla fine ci speravo. Tant'è vero che siamo andati sul 3-4-3 dopo il 2-1 e poi alla fine, fino al 42esimo, mi pare che hanno fatto il gol loro del 3-1, che ci stava tutto, essendo noi proiettati tutti all'avanti, ci poteva stare. Le prospettive? Le prospettive sono di fare bene come abbiamo fatto nel giro d'andata, chiudere la partita a retrocessione domenica 30 ad Agliana, quindi andare ad Agliana e vincere, portare a casa comunque un risultato positivo in maniera che ci dimentichiamo completamente la pratica, perché noi siamo nati corti e con le ragazze che hanno 3 anni, che fanno sempre la stessa squadra, abbiamo preso solo Dalia Alberti, Damassa, che è una giocatrice di 40 anni, fortissima, che ha già giocato molti anni in Serie A e in Serie B. Una volta chiusa la pratica salvezza, abbiamo intenzione di passare un po' di bimbe dell'Under-19 in prima squadra e abbassare 2-3 bimbe, ragazze, giocatrici, a me piace chiamarle bimbe, in Under-19 in maniera che le piccole facciano esperienza, per cui una volta raggiunto questo noi siamo tranquilli.